Scoprire Innsbruck attraverso gli occhi di una giovane cittadina dell'Euregio, Tirolo, Alto Adige, Trentino. Cinzia Rosati, nata nel Trentino, vive già da tre anni ad Innsbruck e conosce benissimo ogni singolo vicolo. Come guida turistica accompagna gli ospiti euro-regionali e internazionali attraverso la città. Oggi con noi nel centro di Innsbruck ci mostra i suoi posti preferiti. Eccoci qua in uno dei posti più belli della città, il Ponte Sullin, che fu costruito nel 1180 in legno come primo ponte della città che diede il suo nome. Alle mie spalle vedete numerose casette colorate, simbolo della città, e sotto questo ponte scorre il fiume Inn, lungo il quale amiamo noi innsbruckesi andare a correre e a camminare. Quanti abitanti ha a Innsbruck oppure la sua posizione geografica sono cose che, navigando in internet, si scoprono in un attimo. Il tettuccio d'oro, in tedesco Goldenest Dachl, ormai lo conoscono tutti. Innsbruck è la capitale antica della regione Tirolo. Ma oggi che significato ha all'interno dell'Euregio? Cinzia può fare chiarezza anche su questo. Ci troviamo all'interno del Palazzo Imperiale di Innsbruck, che è stato rinnovato in stile barocco dall'imperatrice Maria Teresa. Ella ebbe ben 16 figli e durante il suo regno fece delle importanti riforme sia scolastiche per le femmine che di tipo medico. In questo palazzo, nel Palazzo Imperiale di Innsbruck, sono state fatte numerose riunioni anche dell'Euregio. L'Euregio per Cinzia è però non solamente storia, ma soprattutto futuro. Nell'anno accademico 2014-2015 ha partecipato all'Accademia dell'Euregio. Insieme a 60 studenti e giovani lavoratori con meno di 35 anni, ha preso parte, durante l'arco dell'anno, a vari seminari di studio. Da esperti euro-regionali poteva imparare tante cose nuove in vari ambiti. L'Accademia dell'Euregio mi ha permesso di conoscere tantissimi giovani interessati all'Euregio di oggi e di un domani, tutto in trilinguismo. La flessibilità nella nostra società è ormai essenziale. Mantenere una certa capacità di muoversi è importante soprattutto per le giovani generazioni. La base per sviluppare un'apertura verso il mondo è la conoscenza della propria storia e la conoscenza delle proprie radici. Avere una casa vuol dire ricevere sostegno per intraprendere nuove avventure e qui i giovani cittadini dell'Euregio hanno un vantaggio importante. All'interno dell'euro-regione possono parlare varie lingue e muoversi liberamente tra varie culture. Con i 14 anni ho iniziato a trascorrere le mie stati in Germania, imparando così la lingua e innamorandomi del paese. Poi con i 16 sono stata un anno in Honduras, in Centro America, una delle esperienze più belle della mia vita, che mi hanno portato a voler conoscere nuove culture, nuove lingue, viaggiare tra il Brasile, l'Egitto e l'Indonesia ed altri paesi. Questo secondo me è uno dei valori che all'interno dell'Euregio bisogna portare. Uscire a scoprire il mondo, ma essere anche e sentirsi anche volentieri a casa. Un mix di sentimenti che si appropria di noi, soprattutto durante il periodo natalizio. Con l'arrivo della festa Cinzia porta i suoi ospiti anche al mercatino di Natale. Qui racconta di tradizioni locali che risvegliano in lei ricordi di casa. E finalmente arriva il Natale, una delle festività più belle, in cui i bambini si riempiono di gioia e le città vengono decorate dai mercatini del Natale. All'interno dell'Europa Regione Tirolo troviamo delle tradizioni diverse del Natale. Qui al nord troviamo il San Nicolaus con i Krampus, mentre al sud, nel Trentino, troviamo la Santa Lucia. Grazie Cinzia per questa visita della città qui ad Innsbruck. Molto volentieri. Tornate a trovarci quando volete. Certo, volete venire a te. Salute. 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 Sveglia. Finalmente. All'interno.